Con questa nuova avventura segniamo un altro piccolo grande passo nel nostro progetto di citytelling, di racconto e narrazione del territorio. Ringrazio fin d'ora la parrocchia di Carinaro, in particolare Don Antonio, per aver scelto noi per questa sorta di piccola rivoluzione, portare in diretta streaming, nelle case di chi non può recarsi in chiesa, la Santa Messa. E quindi anche un evento così universale quanto semplice, che però è frutto della ricerca e dello sviluppo di un grande lavoro dei nostri tecnici, dei tecnici di Contrasto TV. Quindi, cosa dirvi di più? Buona Pasqua! Grazie! 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 Grazie!